Domani, guardando con attenzione il calendario, la festività del Carnevale dovrebbe essere decisamente archiviata, per cui l'Avellino nella sfida contro il Foggia dovrebbe evitare di fare scherzi. La certezza è che si tornerà in campo con serietà ed abnegazione per provare a concretizzare lo sgambetto al Bari iniziato già sabato sera. Poi la festa potrà cominciare. Giù la maschera dunque e via la rincorsa. Archiviati vari aspetti, in primis la sfuriata di Braglia nel post-partita, che somigliava tanto ad uno sfogo di adrenalina misto a verità assopite per troppo tempo. Uno sfogo che ben si sposa però con l'atmosfera roboante e frizziante di questi tempi di festa e che avrà sortito l'effetto contrario. Invece di parlare di meno, ora si parla di più, con la differenza che si parla di lui. Ma a Carnevale ogni scherzo vale, vale anche questo. Le tradizioni sono dure a morire, soprattutto qui in Irpinia. Tornando al campo, domani sarà la prima di due partite ravvicinate. Il Foggia arriverà con il coltello tra i denti e cercherà di portare a casa il risultato. L'Avellino lo difenderà con la formazione migliore, a partire dalla certezza forte tra i pali. La linea 3 è formata da Silvestri, Micelli ed Ilianes, che tornerà dalla squalifica. A centro campo potrebbe esserci spazio per De Francesco, che, chiamato in causa, ha sempre fatto la sua parte. Potrebbe essere dunque il momento giusto per far riposare D'Angelo. Molto della sua posizione dipenderà dal piazzamento di Aloy, che completerà la linea con il solito ed insostituibile Carriero, Ciancio sulla destra e Adamo sulla sinistra. In avanti l'abbondanza non concede certezze. Dopo il gol, Maniero potrebbe nuovamente sedersi in panchina, magari pronto a subentrare. Al suo posto Bernardotto, accanto a Fella, anche se il bomber potrebbe tornare utile in una sfida difficile e carica di significato. Pronto resta anche Santaniello. Se oggi il clima è festoso, nei limiti delle restrizioni Covid, domani servirà tutt'altro atteggiamento. Poche chiacchiere dunque, nel senso di dolci, intendiamoci mister, rischiano di appesantire. Non l'ambiente, ci mancherebbe, ma il fisico. Si fa per giocare, naturalmente, a Carnevale ci sta. Domani ritorneremo seri e forse, forse, ricominceremo anche a chiacchierare, proprio come piace a lei.